Il Junior C'è la doppia di Di Gesù E la chiusura di Cobissa Lui con le mani Turicchia E Lillari recupera Poi Nasti fa salire i suoi Capone ripartenza a Milan Ancora con Capone, prova a distruggersi La squadra di Giunti Capone porta palla, poi allarga Sulla sinistra per Kerkezza Che spinge come al solito sulla Colsia Mancina Ancora Capone, limite dell'area Palla per Alesi Arriva il cross dentro, corto e basso Milana che recupera il pallone Con questa conclusione Dalla distanza di Tolomello La risposta di Senko Che evita il 3-1 Con le mani Cobissa Allontana Bonetti Recupera Stanga Ancora Alesi Capone, limite dell'area Cerca lo spazio per calciare Noi lo concede l'avversario Poi prova Una magia Incredibile Capone 3-1 dal Milan Che gol Giocata fantastica